La delibera del Consiglio Comunale non può entrare in contrasto né tantomeno può modificare o apportare modifiche a una legge regionale che è stata già recepita dal Comune come variante al piano regolatore. Questo è il senso della lettera che 67 tecnici hanno protocollato a Palazzo San Francesco indirizzata all'assessore comunale e vice sindaco Sergio Berardi per il miglioramento degli standard di edilizia e urbanistici. Secondo i tecnici provvedimento che il Consiglio Comunale sta per adottare non ha alcuna legittimità amministrativa da cui l'invito a iniziare un percorso di collaborazione per recepire la nuova legge urbanistica regionale ma senza integralismi. Nei giorni scorsi il vice sindaco aveva incontrato gli operatori del settore per discutere della problematica, non erano mancati nervi tesi e oggi si arriva alla lunga lettera con i professionisti che si sono messi insieme.